Quattro pagine di spunti e suggerimenti sono state consegnate dal comitato intercategoriale della Lomellina, che raggruppa Assolombarda, Confartigianato, Costruttori Edili e Commercianti e candidati sindaco della città di Mortara. Sono gli obiettivi che le categorie produttive vorrebbero vedere realizzati nel prossimo futuro. Il primo è quello delle infrastrutture. Ferro, gomma e fibra ottica per noi sono ugualmente importanti e vanno sviluppate, hanno detto i rappresentanti degli imprenditori. Abbiamo un gap infrastrutturale che è evidente, d'altronde tutti i dati non fanno nient'altro che confermare purtroppo la provincia di Pavia e il nostro territorio come la Cenerentola dello sviluppo lombardo. E questo è evidentemente dovuto al fatto che siamo isolati. Accanto a problemi infrastrutture che è comune a tutta la Lomellina ci sono questioni più strettamente mortaresi. Una riguarda il polo di sport e istruzione che sorge attorno al torrente Arbogna tra strada Pavese e via Sant'Albino. Un polo che, nei suggerimenti del comitato intercategoriale, andrebbe ulteriormente ampliato con migliori sinergie tra le scuole e le strutture sportive. Istruzione e servizi allo sport sono fondamentali per far sì che la gente voglia venire a stare da noi, voglia venire ad abitare nelle nostre città che devono diventare belle, essere belle, ma dare anche servizi. Le categorie produttive insistono inoltre sul turismo e l'enogastronomia. La via Francigena è salame d'oca come punto di partenza di un'alleanza con i comuni vicini per creare un prodotto appetibile per il turismo enogastronomico. Mortare è conosciuta nel territorio proprio per la sua eccellenza che è il salame d'oca, ma deve diventare leader rispetto a un'attrattività turistica che può seguire il filone dell'enogastronomia.